L'ambito da un'ampia ansa del Po, il comune di Somalia è noto ai viaggiatori per l'omonima aria di servizio posta lungo l'autostrada del Sole tra Piacenza e Lodi. Un territorio produttivo e di passaggio che si svela al visitatore pronto ad abbandonare l'autostrada per un viaggio contraddistinto da un ritmo più rilassato. Somalia è posta nel centro della pianura padana, luogo ricco di storia e di un passato che noi come amministratori prima di altri abbiamo il compito di preservare e di promuovere. Siamo orgogliosi di dimostrare le nostre bellezze e ricchezze. Chi nasce in una cascina della nostra bassa si porta dentro per tutta la vita un'eredità che un cittadino non può né ricevere né trasmettere. Un'eredità fatta di sentimenti e sensazioni, di colori e calori. La mia anima è fatta di questi tesori. Con le parole di Mario Borsa, nato a Somalia e primo direttore del Corriere della Sera dopo la liberazione, si apre il nostro viaggio. Le prime tracce di un insediamento risalgono all'Alto Impero Romano e ciò è confermato dai ritrovamenti di monete avvenuti nel 1896 nei pressi della frazione di San Martino Pizzolano. Nel seguito della storia abbiamo altri segni di Somalia in diverse bolle papali a partire dal 1200 dove Somalia viene identificata come Montoltratus. Poi successivamente nei corsi degli anni ritroviamo la stesura di Somalia associata all'antica Roncaglia. Successivamente poi è solo nel XIV secolo che troviamo definitivamente la parola unica Somalia. L'etimologia richiama chiaramente il latino summus che seguito dal soffisso Alea indica i terreni sopraelevati, i punti più alti del territorio, l'ambito dalle acque del fiume al sicuro dalle piane ricorrenti. Nel XIV secolo il vicario imperiale Bernabò Visconti conferì il feudo di Somalia ai nobili Cavazzi, una famiglia che legherà strettamente le sue sorti a quelle del borgo lodigiano. Una famiglia di origini spagnole a cui dobbiamo molto dal punto di vista culturale e architettonico. Infatti è proprio con i conti Cavazzi che parte la costruzione del castello e anche della nostra parrocchia. Nel 1980 l'ultima discendente dei conti Cavazzi, Gwendalina, donò al comune di Somalia il castello di famiglia. Così come vediamo ora il castello possiamo notare due aree ben distinte. L'ala est di impianto medioevale a mattoni dove si vede ancora chiaramente quella che era l'apertura sesto acuto da cui partiva al ponte elevatoio. E l'ala ovest di impianto seicentesco ristrutturato appunto dai conti Cavazzi dove appunto la moda dell'epoca voleva riportare gli antichi castelli a delle dimore quindi vedete proprio che è stata completamente intonacata. Questo importante incubatore culturale oggi ospita moltiplici attività. È una piccola esposizione dedicata al giornalista Mario Borsa la cui memoria assieme a quella del general Griffini eroe del risorgimento è ancora molto viva tra i somaglisi. Oltre la piazza su una breve altura troviamo la chiesa parrocchiale. I lavori di costruzione della nostra chiesa parrocchiale sono partiti nel 1769 su volere dei nobili Cavazzi che detenevano l'onere e l'onore di scegliere anche il parroco del comune. Grazie a loro partono questi lavori insieme all'importante stesso architetto che ha avviato i lavori anche della fabbrica del Duomo di Milano. Internamente possiamo ammirare la nostra parrocchia ricca di contenuti non lasciati al caso. Il focus fondamentale sono i due quadroni della Giudecca che fanno parte di un ciclo di sei tele volute fortemente dai nobili Cavazzi e riportate grazie a loro nella nostra parrocchia. Pensate che durante l'avvento di Napoleone erano state riportate in Francia e successivamente rientrate in Italia all'Accademia di Prera. L'altro grande protagonista della storia di Somaia che ne determina l'esistenza sin dalle origini è il Po. Un tempo fonte di sostentamento e di vita oggi il fiume rappresenta un angolo di godimento e di svago. Molti anni fa il Po non si trovava in questa posizione ma era molto più vicino al centro abitato. Basta guardare infatti la conformazione territoriale di Somaia dalla quale è possibile vedere delle piccole alture, dei piccoli colli, sono i tre colli di Somaia che fanno parte anche dello stemma comunale che hanno permesso al centro abitato di evitare le inondazioni che derivavano dall'esondazione del fiume. L'ampianza naturale a forma di U che il fiume descrive proprio in questo punto consente di godere una vista ampia e panoramica. La strada bianca che corre lungo l'argine è un vero paradiso per i bikers e i camminatori. Due forme di turismo più importanti e prestigiose del nuovo modello quindi di un turismo dolce e di prossimità sono la via francigena che passa appunto da questa zona e moltissimi pellegrini percorrono questo percorso tutti gli anni nonché vento che è una ciclovia progettata dal Politecnico di Milano che collega Venezia a Torino. I modi attraverso i quali è possibile appunto apprezzare le bellezze di Somaia sono innanzitutto la bicicletta che può essere appunto noleggiata presso la località Gargatano vicino al fiume Po grazie alle biciclette della riserva naturale Monticchie oppure a piedi percorrendo ampi tratti della via francigena ma una vista diciamo così particolare che può rendere l'idea di quanto ci si può immergere nella natura in questa in questa nostra zona è la navigazione sul Po che ci consente appunto di visitare Somaia attraverso un'altra angolazione più intima se vogliamo dire. L'altro fiore all'occhiello dell'offerta naturalistica di Somaia è la riserva naturale Monticchie area tutelata sottoposta a SIC e ZPS alle mie spalle c'è la riserva naturale Monticchie è un piccolo lembo di terra di più o meno 240 ettari che è rimasto a vosco e ad aree umide dove ci sono intorno a tutti dei campi dove ci sono delle fioriture di prati stabili e degli acquitrini. Attorno agli anni 50 questo piccolo lembo di terra fu abbandonato perché ritenuto improduttivo successivamente negli anni 60 il WWF si interessò al sito già ripopolato da fauna e flora locale fu evidente sin da subito l'importanza naturalistica dell'aria che venne prontamente posta sotto tutela. La specie più importante presente nella nostra riserva naturale è la rana di lataste che è una rana rossa una rana terricola che utilizza gli specchi d'acqua soltanto per la riproduzione e la deposizione delle uova. È molto importante perché è endemica della pianura padana e molti territori di cui ci sono i suoi habitat naturali si stanno perdendo per via del consumo di suolo e dell'agricoltura. All'interno della riserva è possibile fare bird watching e passeggiare grazie ad una vasta rete di sentieri interni ben delimitati. Man mano che si entra all'interno della riserva naturale si vengono a trovare dei prati stabili con importanti fioriture molto utilizzate dagli insetti impollinatori. Mentre man mano che si entra nella zona di bosco si va a vedere le varie aree umide che sono presenti tra cui molte specie sia di anuri che di anfibi che di vegetali come il carice hanno potuto crescere disturbati e sono proprio delle specie tipiche di queste zone. Il nostro viaggio termina come da tradizione in cucina. Per chi ha somaglia potrete gustare una specialità molto particolare. Vi propongo un risotto proprio che racchiude i prodotti tipici del territorio, risotto con zafferano, salsiccia e raspadura. La raspadura è un prodotto esclusivamente di questo territorio, è una forma giovane di tipico lodigiano, è un grana padano fatto con il latte delle mucche lodigiane, ha una stagionatura di soli sei mesi e viene proprio raspata, quindi da quelli prende il nome di raspadura e ce l'abbiamo solo noi. In questo lembo di Lombardia, operosa e rilassata al contempo, il viaggiatore potrà assaporare, come scrive Mario Borsa, i colori e i calori di un mondo avito e autentico. Grazie a tutti.